In Emilia-Romagna ripartiamo il 18 maggio con regole sicure per gli esercenti, per i lavoratori e per tutti i clienti, dice Matteo Musacci, vicepresidente della FIPE nazionale e presidente per l'Emilia-Romagna. Le linee guida di Inail pubblicate nei giorni scorsi sulla stampa rimangono indicazioni che nella realtà del nostro mondo avrebbero reso impraticabile una riapertura. Ed è proprio questo il punto saliente. Non esiste una normativa nazionale per i ristoranti salvo le indicazioni di Istituto Superiore Sanità e Inail. Esisteranno dunque tante normative regionali. Se queste norme della regione Emilia-Romagna verranno dunque avallate politicamente dal governo, ovvero se non verranno impugnate, è del tutto evidente che diventeranno le norme adottate da tutte le altre regioni che ancora sono in ritardo e che non hanno approvato i loro provvedimenti in vista della ripartenza di lunedì 18 maggio. Il documento in linea generale insiste molto sulla responsabilizzazione dei clienti nell'assunzione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e nell'adozione da parte dei titolari degli esercizi di tutti i possibili strumenti di comunicazione rivolti alla clientela sulle regole di accesso e comportamento. Per quanto riguarda le autocertificazioni non saranno assolutamente utilizzate, tanto si può mentire quando si vuole e si finisce solo per generare burocrazia e scartoffie. Sul distanziamento c'è la vera rivoluzione delle linee guida dell'Emilia-Romagna, sia perché saltano i 4 metri quadri per avventore, un fattore di densità che sta facendo molto discutere, sia perché salta il concetto dei 2 metri tra tavolino e tavolino. Non si parla più di distanziamento tra tavolini, ma di distanziamento tra persone e si sancisce che le persone devono stare ad almeno un metro, non 2 metri, non 4 metri, ma un metro, come del resto ripetono i DPCM da qualche mese a questa parte. Ovviamente il protocollo suggerisce e incoraggia l'utilizzo di spazi all'aperto, spazi che, come stato confermato dal Presidente Conte nell'ultima conferenza stampa, saranno resi gratuiti in virtù di un accordo tra Governo e Associazione Nazionale dei Comuni. A differenza di quanto abbiamo visto ad esempio in Cina, non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per l'ingresso nel locale di dipendenti, che sono comunque invitati ad assenessi dal lavoro in caso di sintomi sospetti e devono presentare certificato medico di avvenuta guarigione se reduci da infezione da coronavirus, idem per i clienti, solo facoltativo quindi l'utilizzo di pistole o termoscanner. L'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione dovrà essere effettuata almeno due volte al giorno, con particolare riguardo a servizi igienici, maniglie di banchi ed armadi, frigoriferi e terminali POS. La biancheria da tavolo va sostituita ad ogni cambio di cliente, così come l'igienizzazione dei tavoli. Ci saranno anche i gel igienizzanti, ovviamente. Per evitare assembramenti all'esterno è prevista, se possibile, la separazione degli accessi in entrata e uscita, oltre al ricorso a sistemi di prenotazione telefonica e digitale con scaglionamento delle presenze. Per quanto riguarda le mascherine e i guanti, anche qui norme molto più soft di quanto ipotizzato dall'INAIL. Il personale di sala dovrà indossare le mascherine in tutti i casi ove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Insomma, si potrà, facendo attenzione, non usare obbligatoriamente la mascherina. I guanti, anche, non saranno obbligatori e si predilige una igienizzazione delle mani, compresi di sanitari. Sono ovviamente vietatissimi i buffè a self-service. Si consiglia poi l'adozione di menù digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si procede all'igienizzazione dei menù dopo ogni uso. Le regole di accesso ai bar, invece, ricalcano comunque quelle adottate per i ristoranti. Si tassativamente escluso il fai-da-te, i prodotti in vendita dovranno essere serviti dal personale, possibilmente con servizio ai tavoli. Anche qui distribuiti in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra i frequentatori. I tavoli vanno puliti e disinfettati ad ogni cambio di cliente. Si incentivano poi il take-away e la consegna a domicilio. L'Emilia-Romagna fa quindi da apripista ad uno scenario molto più realizzabile, specie sulla nostra isola, e comunque sufficientemente prudente. Beh, potrebbe essere un gran bel esempio da seguire anche nella nostra regione e sull'isola Rischia.